Bala ragazzole benvenuti in questo nuovo video oggi sono usciti i nuovi operatori Cioè sono proprio usciti possiamo acquistarli al negozio e oggi ragazzi mi prenderò mira e mira Quindi ragazzi buona visione eccoci qua ragazzi e vediamo c'è Già e poi c'è la nostra fantastica mira io ragazzi però la mia mira la pretendo la pretendo quanto è bella quanto è forte Ragazzi ho mira Cioè non so se ci siamo intesi io ho mira Cioè vediamo subito le armi Ita 102s ma quant'è bella Anche ho preso pure questo nuovo ciondolo perché è carino Ragazzi c'ho mira porco due Io direi subito classificata Subito prima cosa prima cosa da fare classificata Ok ragazzi ok E mia mia mamma mia tutta mia Iniziamo subito a modificare una piccola cosa Voglio subito mettergli il nuovo ciondolo Raga sono miei questi operatori Oddio Vi dico subito che sono super gasato Perché c'è c'è c'ho tutto c'ho c'ho il mondo Cioè sono felicissimo sono felicissimo ragazzi Sono felicissimo Sono felicissimo E mira c'è da dire che mira è forte C'è un'armettina che non fa male Di più Adesso aspettiamo solo che carichi Ok ragazzi sono sono super agitato Dobbiamo proteggere oh mio addio Mi c'è una mira raga Mira c'è una mira non mirosa Ma mirosa Ah raga ne possiamo mettere soltanto due Oi 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 Oh allora Dov'è No no frate Qua mi sa che ce l'abbiamo Levati Ricordate l'efficienza E' o più intelligente Oh Oh ti devi levare Raga giuro che se che quando si toglie adesso Sparo un colpo in fronte Ma ti sembra logico Ecco fuori La mia è qua zio Qua vedi qua Qua Si rompe Nel mirino Raga Voglio subito usarlo Raga Fuori Fuori Levati Madonna ti devi levare Ti devi levare frate Non esiste scusa Chi tenga Oh c'ho un mira Faccio una mina In testa No raga Mi sa che si qua giocano di lontananza Sono Se li vediamo Ma Questa arma C'ha un rincuro Raga Fantastico C'ha un rincuro Che Che è Scarto Frate se non te ne sei accorto Brutta testa Di culo Uno Vabbè l'altro Ok Chi l'ha sparato questo Ultimo attaccante Siamo a 15 secondi 10 secondi e via E ovviamente arrivo io Mamma mia Raga L'amo già Starman L'amo già L'amo già L'amo già Me l'ha spuso Raga Me l'ha spuso Inoltre Spero che stia registrando Ok Non so se mettere questo Questo Non mi metto Questo Però Dovevo mettere Il mio bellissimo Zondolo Perché mi piace tanto Il mio nuovo Ciondolo Ok E mettiamo La nostra mimetica Wow Allora Mettiamoci qua Porca miseria Raga Cioè Wow Sono rimasto scioccato Dalla forza di mira Sembra scarsa Ma Fai le chiappe Probabilmente Lo userò Quando So che c'è qualcuno In distanze Ravvicinate So già che c'è qualcuno Quindi arrivo lì Vado sicuro Con Con il pompino Grande Ciao frate Ragazzi Ragazzi ho paura Perché loro hanno mira Adesso che so quante Forte Cioè Una volta L'ho uccisa Mira Perché Cioè Io non è che faccio Calcolo tanto Quando devo ammazzare Io Chi mi trovo davanti Ammazzo Di solito Però Ragazzi Sapendo che è così forte Sapendo che è così forte Non Non È già una Raga Già una L'ho fatta fuori Sono una fortissima persona Facciamo un bel muro In cartongesso Mi sento troppo forti Raga Ci siamo Invietro L'ho quasi seccata L'ho quasi seccata Eh cos'è la festa Lasciate perdere il contenitore È fantastica Ma c'è da sola No ma io sto qui Vai Bel lavoro Contenzione di giudizio Sostenuto Andiamo vinto Io so se Cioè io Mi riparo Dietro alle loro Costruzioni Perché è una cosa Sembra una cazzatina Ma è una roba furba Vedete Un pizzico di cervello Io ho paura subito Di perdermela Quindi la prendo subito Eh anche sto pompa Non è che è male Però Mamma mia Questo Quanto so 66 Pure Pure la pistoletta Non è che toglie poco Raga porco cane Cioè Mi sa che ho fatto L'acquisto Più bello Che abbia mai fatto E' questo Cioè Comprarmi Mira Mamma mia Come mi piace C'è Come proteggere il contenitore Di Biori Arizoom Caco non ha anche niente Di cadenza Raga ma se io Faccio Il San Girolamo E vado in c'è L'altra finestra Così vedo Quelli che Sardano Ah guarda Barrate qua Sbarriamo subito qua Così le metto La metto proprio qua In mezzo Il contenitore di Biorischio Vai Così abbiamo una maggior Visibilità Qua Il drone nemico Ha individuato Il contenitore di Biorischio Vada io qua C'è il controllo Del mondo Vieni Vieni Frate Vieni Se vuoi C'è là Tu stai lì Io sto qui Abbiamo una buonissima Buonarrima Visuale Che ci invia Allora Questo qua Per rompere Per rompere Il verbo Micchie Perché frate Così Così Ega io C'ho una paura Eh Visto Vai Rianimemi Dannazione L'attaccante Rimasto in vita I difensori Hanno insegnato Tutti i nemici Madonna Boom Gli hanno dato Una lezione D'arte Ok No Spesso Spesso Le bortole Che stanno Sopra Non si riescono Ad aprire Siamo Ad esempio Con Captao Mi sono trovato Mille volte A A cercare Di sfondare Le finestre Quanti altri Non c'è nessuno Prate Ok Ancora 5 secondi Hanno Caveira Cavolo Raga Mi si sta Scaricando Il controllo Dicevamo Loro hanno Caveira 2 Allora Scusate ragazzi Che mi dimentico Sempre E dico Sempre Di sta cosa L'ho localizzato Se volete Entrato E fa degli Arculetto Se mai entro io Ah no È vero che sta lì E guarda Sta proprio qui All'anno All'anno Sapevo che era lì Ma l'ho localizzato Io L'ho localizzato io In pratica Missione d'attacco Riuscita Mamma mia che vittoria Mamma mia Io sono arrivato primo Non è proprio Non è proprio no limit Non è proprio no limit Sì ma ormai raga Ormai che ho Questi operatori Non mi ferma nessuno Allora ragazzi Per questo video Io direi che è tutto Proprio tutto Noi ci vediamo A un prossimo video Se vi è piaciuto Lasciate un like Io vi saluto Bella ragazzi Ah seguitemi su Instagram Bella